Abbiamo segnato presto con l'Argentina nel 90, ci hanno recuperato e hanno vinti rigori. Finirà così. Beppe, anche così noi, Beppe, vent'anni, quindici anni dopo. Ma chi c'è? Però, vi possiamo raccontare questa cosa? Ho avuto la fortuna di commentare un buon piano, un vinco e un euro per l'Unione Europea. Però, Beppe, quando noi siamo usciti dalla prima telecronaca, che abbiamo fatto la prova insieme, che cosa c'è stata? Un'eclissi di sole, era destino. Un'eclissi di sole e del secolo. E tu sai che gli antichi sono queste cose che fanno. Grazie ragazzi, è stato bellissimo. Spero che sia stato bello per voi. Abbracciate anche voi. Quanto è stato bello per voi. e che smileda 1 via salone, bellissima. Non ci sono lavorato가지고. guerra 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 Grazie a tutti.